Per adesso è un giorno, però nel giro di 3-4 giorni qua si riempie il piazzale e si alza di 5-6 metri il cumulo. Purtroppo fino a che non ci fanno usare il nastro per poterlo portare via la cosa sarà sempre peggiorabile. Quindi il rischio è che nel giro di pochi giorni questo diventi una montagna? Eh sì, purtroppo non possiamo non pulire i box dei cavalli perché sarebbe un danno per il cavallo e tutto, siamo costretti. Sì, siamo costretti a lavorare così. Io credo che in emergenza bisogna ripristinare almeno la corrente per portarvi all'etame, per non far danno anche ai vicini di casa e tutto, che più volte si erano lamentati e avevamo trovato la soluzione. Voi avete chiesto l'intervento di qualche autorità? Beh io ieri ho immediatamente chiamato il comune, la segreteria del sindaco che mi ha detto che si interessava, mi ha detto che mi richiamava, tutt'oggi ancora non sappiamo niente. Grazie.